buongiorno a tutti questa è una comunicazione di servizio ringraziando la lega calcio e i suoi calendari assolutamente senza senso perché la juventus ha giocato venerdì sera milan e inter si sfideranno nel derby domani lunedì il napoli che ha giocato ieri sabato la domenica è assolutamente sprovvista di grandi match di sfide che insomma valga la pena di commentare e raccontarvi ma noi come l'anas stiamo lavorando per voi e come il signor sauli non vi lasciamo mai soli stiamo preparando una copertura fighissima a 360 gradi per il derby di domani che potrebbe assegnare lo scudetto della seconda stella all'inter e quindi saremo con voi in tutta la giornata di questo lunedì il lunedì del derby con tantissimi contenuti molti dei quali live perché avremo Dario Baldi e Francesco Facchini da San Siro da Piazza Duomo in attesa appunto magari dei festeggiamenti dell'Inter per lo scudetto della seconda stella poi ci saremo io e Gianluca Drammis a Telenombardia saremo con voi ovviamente con l'appuntamento fisso di calcissimo dalle 23.30 all'una ma in mezzo avremo tanti contenuti tanti contributi tanti servizi tante sorprese per voi quindi mi raccomando restate sintonizzati stay tuned come dicono quelli bravi come dicono gli inglesi e allora appuntamento a domani per la nostra copertura totale a 360 gradi sul derby di Milano ciao